Partito del rapper Allora di solito faccio beat rap perché è quello con cui sono cresciuto Però sono anche interessato a fare cose un po' più sperimentali Borasti, Ozsamoah, Flying Lotus diverse dal rap, molto sperimentale, più strano, però si può fare, tutti i beat strani che continuano, niente loop, è una roba che continua, quindi roba figa. La scena rap italiana mi piace, però secondo me non è abbastanza sperimentale, sono troppi anni che gli sti rapper fanno sempre le stesse cose, però si può fare, cioè pian piano il rap italiano sta provando a fare cose nuove, che dopo una certa, se puoi dire la verità, stucca un po'. In Italia i rapper che mi piacciono un botto sono Ibra, Ibra spacca, riesce a fare di tutto, pure se è mainstream, stessa cosa ai Club Doggo, i mainstream però riescono a fare delle cose che spaccano, poi pure i rapper indipendenti, underground, tipo il Turco, Next Cassel, Wells, Demon Science, sono un sacco i rapper che mi piacciono. Secondo me è difficile trovare i rapper che sorridono perché sono tutti preso a male, ma poi pure perché hanno un personaggio da mantenere, perché tutti i rapper se vogliono vabbè, bruttili, cattivi, quindi devono passare il tuo personaggio, bruttito, perché ai fan spiace, pure io non sorrido mai. Il rap lo fa quello incazzato se viene dalla strada di soli, quello cresciuto nella borgata che ha avuto una vita difficile, che adesso ha voglia di raccontare cose, quindi diciamo che è quello incazzato che lo fa, ed è difficile che il rap ti fa incazzare, perché se ti fa incazzare sei un coglione. Poi c'è chi non mette la passione, il cuore, e nel corso degli anni, nel tempo, si sente perché non diventa nessuno, rimane là con i suoi due gatti, che lo seguono e basta, perché è un'arte, e tu la devi rispettare come hanno fatto negli anni, per me in America, negli anni 80, 90, devi rispettare. Il primo lavoro ufficiale che ho fatto è il disco di mio padre, Stay Cold. Il progetto è nato con mio padre, che era appena ritornato dallo studio di Luciano, con un po' di pezzi che aveva registrato, e mi diceva che voleva prendere un po' di beat in giro. Ha registrato, poi pian piano inizia a piacere lo stile che sto a fare, inizia a prendere tutti i beat mia. Poi alla fine ha deciso di fare tutto il disco con me, perché in Italia non è mai successo che un padre e figlio fanno un disco insieme. Nel disco ci sta Fabri Fibra, Club Domo, Emi Schilla, Antics, Dwells, Seppia, Sagar Secco, Mio Bella Strada, Ion e Gitano. Nel futuro io spero di stare in America, perché è là dove voglio stare ed è là che mi piace il rap. Sinceramente vorrei produrre tutti gli artisti americani, magari svolto, capito? Perché là è facile, là basta che dà in beat a un manager, magari quel manager lo fa sentire con il rap, perché non so, tipo Lil Wayne, Rick Ross, ed è fatto, hai svolto a vita. Quindi, io spero in America perché c'è più chance. Qua in Italia alla fine il giro è quello, che rimani sempre in mezzo alla stessa gente, sempre le stesse cose. Ah, e poi ho fatto, cosa scordavo di dirvi, il progetto si chiama Pandemic. 6X viene dalla Philadelphia, quindi lui mi ha fatto fare un sacco di collaborazioni con Rift Lost Coast, Dope Nixon, Slayne della Coca Nostra, Planetary the Outer Space, Crash Unit, mi ha fatto remixare pure un pezzo dei Snow Goons, quindi mi ha dato un sacco di possibilità di fare progetti fighi, e mi ha fatto pure agganciare con altri rapper, quindi ha dato una bella spinta. Il mixaggio lo stiamo facendo da Scott Stallone, l'engineer di JD Matrix, Heavy Metal Kings, Outer Space, La Coca Nostra, e il progetto è finito, quindi stay tuned, sarà una bomba di progetto, me lo ascolto ogni giorno, sai che è bomba, divissimo. Quasi Cluck, saluto Basilare, Fibber Squad, Balono Uno, Ertoni, Muccio, Ertona Slozzata che mi ha fatto il video, Wise Type, grazie per l'intervista, saluto mio padre che sta in cucina a cucinare, dopo si magna, saluto tutti, quindi, aiuti affanno.